ministero apostolico profetico della bibbia del missionario evald frank il missionario evald frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni egli è conosciuto per aver pubblicato vari libri trattati programmi radio e televisivi il suo reale insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di dio intorno al mondo cari fratelli e sorelle cari amici in cristo e il fratello frank che vi parla dal centro missionario di krefeld germania è sempre un privilegio condividere la parola di dio con voi noi chiamiamo questo ministero ministero apostolico profetico di insegnamento della bibbia noi non accettiamo alcuna interpretazione della parola di dio ma crediamo l'originale parola di dio come stata proferita dal signore stesso e testimoniato nell'antico e nel nuovo testamento ci ricordiamo di ciò che ha detto l'apostolo pietro che nessuna profezia della scrittura proviene da alcuna interpretazione privata dio stesso vigila sulla sua parola e quando giunge il tempo dell'adempimento naturalmente tutte le predizioni e le promesse giungono a compimento come stato con la prima venuta del nostro signore e salvatore così accade adesso prima del ritorno di gesù cristo il nostro signore cari oggi parleremo riguardo al segno del figlio dell'uomo vorrei leggere a questo proposito in luca capitolo 17 versetto 22 disse pure ai suoi discepoli verranno giorni che desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo e non lo vedrete e poi il nostro signore continua con lo stesso tema in merito a come sarebbero state le cose quando il figlio dell'uomo si sarebbe rivelato nel suo giorno versetti 23 e 24 poi in luca capitolo 18 versetto 8 leggiamo io vi dico che renderà giustizia con prontezza ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra cari il nostro signore doveva essere figlio di dio figlio dell'uomo figlio di davide egli doveva essere il mediatore doveva essere l'avvocato doveva essere l'agnello di dio egli doveva essere tutto ciò che è in collegamento con la nostra salvezza così noi comprendiamo che la parola di dio doveva essere adempiuta se andate nell'antico testamento e specialmente nel profeta ezechiele 93 volte di lui è stato parlato quale figlio dell'uomo come figlio dell'uomo egli è profeta intendo dire il nostro signore quale figlio di dio egli è il salvatore come figlio di davide egli è re così tutti questi termini hanno un collegamento con il nostro signore e con tutto ciò che egli doveva essere nei quattro vangeli esattamente 70 volte ci viene detto che il nostro signore è stato chiamato il figlio dell'uomo ho riferito a se stesso come figlio dell'uomo 70 volte nei quattro vangeli poi ritornando al nostro passo della scrittura in luca 17 e luca capitolo 18 troverà il nostro signore quale figlio dell'uomo la fede quando egli verrà poi nel capitolo 17 dal versetto 26 il nostro signore si riferisce ai giorni di noi e così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo ancora continuando con l'antico testamento sta scritto nel versetto 29 ma nel giorno che lotto uscì di sodoma piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire versetto 30 lo stesso avverrà nel giorno che il figlio dell'uomo sarà manifestato se ritornate in genesi capitolo 17 dal versetto 15 al versetto 22 il nostro signore fece la promessa ad abbramo che avrebbe avuto un figlio da sarà se continuate con genesi capitolo 18 dal versetto 9 al versetto 15 sarà udì la promessa che il signore diede ad abramo e lei era nella tenda e ascoltava quello che diceva quello che diceva il nostro signore e lei rise dentro al suo cuore e il signore guardò abramo e disse perché sarà ha riso dunque prima della distruzione di sodoma e gomorra dio aveva un profeta al quale diede la promessa e poi naturalmente la promessa fu adempiuta e in seguito la distruzione di coloro che non avevano parte in quello che dio stava facendo e che non avevano creduto costoro furono distrutti cari come fu nei giorni di noè come fu nei giorni di sodoma e gomorra così dovrà essere prima che il signore ritorni ma prima del suo ritorno egli si sarebbe manifestato di nuovo come figlio dell'uomo se leggete in atti degli apostoli capitolo 3 dal versetto 18 al versetto 21 ci viene parlato dei tempi di refrigerio che sarebbero venuti dalla presenza del signore questo è in collegamento con la promessa di malachia capitolo 4 versetti 5 e 6 che il signore dio avrebbe inviato il profeta ilia prima che venga il grande terribile giorno del signore come è stato confermato dal nostro signore in matteo capitolo 17 versetto 11 elia deve venire e ristabilire ogni cosa noi siamo adesso nel tempo della restaurazione di tutte le cose noi siamo adesso nel tempo in cui avrà il luogo l'effusione dello spirito santo come è stato all'inizio del nuovo testamento e naturalmente come giovanni battista aveva il suo ministero quale profeta promesso così nel nostro giorno e nel nostro tempo dio ha avuto un uomo un profeta molti mi hanno sentito parlare alcuni non desiderano sentirne parlare ma io sono un testimone io posso dire come l'apostolo giovanni ciò che mi occhi hanno visto e che le mie orecchie hanno udito della parola della vita lo testimoniamo a voi devo parlarvi delle cose che dio ha fatto secondo la sua parola nel nostro tempo non sono interessato a quel che stanno facendo i grandi evangelisti a ciò che stanno facendo le chiese o a cosa stanno facendo le denominazioni io sono interessato a ciò che dio ha promesso e sono interessato ad essere partecipe di ciò che dio sta facendo adesso e voglio che voi ne siate partecipi dunque il 7 maggio 1946 il signore ha visitato un uomo di nome william brana il suo nome è amato da coloro che credono dio e naturalmente rigettato da quelli che camminano nelle proprie vie tuttavia gli fu detto come giovanni battista è stato inviato per precedere la prima venuta di cristo tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di cristo cari il ministero che dio diede a questo umile uomo era come quello che ha avuto il nostro signore quando ha camminato sulla faccia della terra se andate in giovanni capitolo 1 il nostro signore disse a simone il tuo nome sarà pietro era la prima volta che lo incontrava e gli conosceva il suo nome e quello di suo padre anche nello stesso capitolo giovanni capitolo 1 ci viene detto che filippo chiamò natanaele e quando egli venne alla presenza del signore gli fu detto tu sei un vero israelita in cui non c'è alcuna frode e dopo naturalmente egli era meravigliato e ricevette la risposta che cristo è il figlio di dio cari se andate in giovanni capitolo 4 il nostro signore parlo alla donna al pozzo e lei disse noi sappiamo che quando il messia verrà egli ci dirà tutte queste cose ma chi sei tu e il signore disse sono io colui che ti parla il nostro signore doveva essere figlio dell'uomo nel suo ministero profetico e i profeti vedevano visioni ricevevano l'isperazione divina nessuno aveva bisogno di dire loro qualcosa perché le cose che essi ricevevano venivano direttamente da dio se andate in luca capitolo 19 dal versetto 28 al versetto 40 ai discepoli fu detto di andare e portare un'asina e un puledro poiché zaccaria capitolo 9 versetto 9 doveva essere adempiuto come testimoniato in matteo capitolo 21 se andate in luca capitolo 22 dal versetto 9 al versetto 13 il nostro signore disse ad alcuni dei discepoli andate nel villaggio incontrerete un uomo che porta dell'acqua ditegli il maestro mangerà la pasqua in casa tua lungo tutto il tempo il nostro signore ha avuto il suo ministero profetico quale figlio dell'uomo e in questo collegamento egli disse in Giovanni capitolo 5 versetti 19 e 20 il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre perché le cose che il padre fa anche il figlio le fa similmente cari io sto per presentarvi il ministero che ha avuto william brana noi tutti comprendiamo che negli anni 50 quando questa registrazione è stata fatta a washington dc naturalmente la qualità non era quella che c'è oggi tuttavia ho incontrato personalmente william brana nel 1955 quando egli è venuto in germania e in svizzera ho visto il don in azione che voi sperimenterete fra qualche momento e non dimenticherò mai il lunedì del 15 agosto 1955 quando entrai di buon'ora nell'albergo dove si trovava il fratello brana io desideravo semplicemente stringergli la mano e salutarlo e mentre aspettavo alla reception con questo gentiluomo il gruppo è entrato e il fratello brana venne direttamente alla reception dove mi trovavo io e si indirizzò a me con la sua mano e disse tu sei un predicatore del vangelo si girò poi alla sua sinistra e disse lì all'entrata c'è tua moglie in piedi cari le mie lacrime colavano giù io non l'avevo mai incontrato prima non avevo mai scambiato una parola con lui lui non conosceva la lingua tedesca tuttavia cari egli era un profeta e tramite il suo ministero il signore quale figlio dell'uomo ci ha dato un segno che tutti riconosceranno non era l'uomo a fare tutto ciò che accadeva ma il signore della gloria che ci dà la possibilità per credere secondo la scrittura e giungere a conoscenza del tempo in cui viviamo e le promesse di Dio date per questa epoca prima che termini il tempo della grazia Dio è di nuova in azione per mezzo del suo santo spirito cari amici fratelli e sorelle in Cristo ora c'è la possibilità per me di presentarvi una breve parte della fila di preghiera della riunione a Washington DC Dio vi benedica e sia con voi ora abbiate fede nel signore Gesù mettete proprio ora lui il signore Gesù al centro dei vostri pensieri mentre voi pensate a queste cose mentre loro pensavano a queste cose erano di un solo accordo ricordate Gesù è lo stesso ieri oggi e in eterno oggi è lo stesso ora abbiate fede voi nell'uditorio guardate in questa direzione credete con tutto il vostro cuore prestatemi tutta la vostra attenzione state in preghiera abbiate fede in Dio ora credo che questa sia la signora e questa la paziente benissimo avvicinati sorella naturalmente ora ciò non ti farà del male quella è solo la sua presenza vedi quella di cui tu sei consapevole Dio e voi dell'uditorio io sono vostro fratello questa non è psicologia sento che quello viene dall'uditorio essa non lo è è l'Iddio Onipotente vedete vedete non è psicologia no non lo è ora non fatelo pensate soltanto che sia il Signore Gesù vedete di un solo accordo ora sorella io voglio parlare con te solo un momento suppongo che noi siamo estrani tuttavia Gesù Cristo ci conosce entrambi e questa è la prima volta che ci incontriamo sulla terra però Egli ti conosce e ti ha nutrito per tutta la vita ed Egli conosce me e se io tuo fratello per la sua grazia tramite un dono divino per il quale non ho fatto niente affinché venisse quando ero un bambino appena nato la prima cosa che posso ricordare è stata una visione ora voglio che tu guardi in questa direzione solo per un momento naturalmente tu sei ammalata e stai soffrendo con una condizione che esso è uno spirito tetro intorno a te esso è morte ed è in forma di cancro e il cancro è localizzato sul tuo seno e tu sei vedo che sei stata esaminata da qualcun esperto e tu hai un'ernia e l'ernia è nelle viscere tu hai pure un problema allo stomaco un serio problema al cuore che ti provoca svenimenti alcuni giorni fa eri seduta sul bordo del letto e stavi quasi per trapassare guardando verso la finestra sono queste cose vere quelle è tutto vero ebbene qualsiasi cosa fosse naturalmente se n'è andata da te ma chi pensi che sia che conosceva la tua vita era Gesù Cristo accetti che sia quello grazie tu sei volenterosa sai che è qualcosa di sopranaturale qui e se tu credi che è il Signore Gesù come io ho predicato dalla parola credi che sia il Signore Gesù io so che c'è uno spirito tetro vedo che è ancora attaccato a te è qualcosa di molto serio io ti vedo il tuo nome è Eva e il tuo cognome è York e tu abiti in questa città e il tuo numero di casa è 613 della sesta strada e cioè esatto tu andrai a casa e sarai guarita nel nome di Gesù Cristo possedla andare a casa ed essere guarita Dio ti benedica vai felice rallegrandoti abbiate semplicemente fede non dubitate la scrittura dice va e non peccare più altrimenti una cosa peggiore verrà su di te peccato è incredulità peccato non è bene fumare giocare d'azzardo quelli sono attributi del peccato tu fai quelle cose perché non credi Gesù disse vai e non peccare più o non essere incredulo altrimenti verranno su di te cose peggiori abbiate fede in Dio credete lui con tutto il vostro cuore vedo la luce che segue ancora quella donna sì quella è con lei che è appena andata via essa è sospesa lì su una persona di colore sì la donna con la vescica irritata e l'ernia crede che il Signore Gesù la guarirà signora lei è seduta là con quella cosa bianca intorno al collo se le crede con tutto il suo cuore può alzarsi in piedi e reclamare la sua guarigione e sia sanata nel nome di Gesù Cristo Dio ti benedica abbiate fede in Dio credete voi? lei ha un'ernia non è vero Signore lei è seduta laggiù non è quello esatto lei stava seduto là pregando Signore fa che quello parli a me è quello esatto se c'è esatto alza la tua mano alzati in piedi la tua fede ti ha guarito fratello vai a casa Gesù Cristo ti sana lo stesso Signore Gesù voi non avete bisogno di stare qua su avete bisogno di avere fede credete semplicemente Dio con tutto il vostro cuore e avrete quello che chiedete Gesù Cristo ve lo concederà se soltanto credete però voi dovete avere fede voi dovete credere Lui con tutto il vostro cuore e Dio lo adempirà il paziente mi scusi Signore crede con tutto il suo cuore lei crede ora lei è solo un po' eccitato a motivo della sua presenza che sta qui ed io credo che lei non è di questa città pure lei viene da una capitale Richmond, Virginia lei ha un cancro esso è dentro la sua bocca sulla sua mascella e quello esatto vuole andare a casa ed essere sanato accetti Gesù come il suo guaritore nel nome di Gesù Cristo possa esso lasciare quell'uomo Dio ti benedica Signore vada credendo avendo fede cari amici credo che abbiate visto qualcosa che non avete mai visto prima nella vostra vita avete visto l'umiltà la semplicità e Dio opera sempre in modo soprannaturale al di là della nostra comprensione ma è impressionante perché nessuno potrebbe fare simili cose a meno che Dio sia con lui già nel 1950 Gordon Lindsay conosciuto in tutto il mondo da Dallas Texas Stati Uniti ha pubblicato il libro un uomo mandato da Dio mostrando la chiamata e come quest'uomo è stato inviato prima che ritorni il Signore Gesù Cristo cari noi abbiamo raggiunto la fine del tempo della fine voi non potete giocare alla religione dovete credere adesso come dice la scrittura preparatevi perché la tromba suonerà il Signore ritornerà e i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo mutati e innalzati per incontrare il Signore nell'aria possa Dio darvi comprensione divina e la rivelazione divina per conoscere la sua parola e sapere ciò che gli fa ora ed avere parte nell'azione finale dello Spirito Santo che potrebbe arrivare in qualsiasi momento Dio conosce il tempo preparatevi per ricevere la piena restaurazione preparatevi per ricevere tutti gli insegnamenti della parola di Dio ma dovete anche essere preparati a lasciare tutto ciò che non è scritturale per seguire il Signore in ubbidienza e fede secondo la sua parola Dio vi benedica e sia con voi sarei felice di avere vostre notizie nel nome santo di Gesù amè di Gesù Grazie a tutti. Grazie a tutti.